Queste new entry, solita Cricca e Sbordone Team, sono sembrate due belle squadre. Chico, che ne pensi? Sinceramente ho visto la solita Cricca molto agguerrita. L'unica pecca è quella Giuseppe Lauria, che anche senza maglia, senza gombritino, senza dignità, si atteggia per delle vittorie, dove lui non ha fatto quei cinque minuti, non ha nemmeno sudato. Non lo capisco. Mentre dall'altro lato, vedo che la squadra di Luigi è molto messa bene in campo, ci sono quei... Ha resuscitato vecchie glorie. Vecchie glorie, si, un ruolo peraltro. Due grandi giocatori in campo, vecchie glorie, che nonostante l'età, si tirano con la giacchetta. Passiamo alle immagini. Vecchie glorie, che nonostante l'età, si tirano con la giacchetta.